Ben ritrovati, buona domenica, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella e mettete like ai miei contenuti. Sì ragazzi, è un momento di grandissima difficoltà per la Juventus, ma dobbiamo compattarci e quindi voi dovete sostenere il mondo bianconero qua su questa piattaforma. L'unione fa la forza, soprattutto nei momenti più complicati. Giornata di elezioni politiche, quindi del macro tema, ma siete tranquilli, non me ne intendo minimamente, non voglio neanche lontanamente toccare questo argomento, già capisco poco di calcio, figuriamoci, di politica. Allora, signore e signori, non si può dare una stagione per finita, per finita male, a settembre. Questo è un concetto davvero, ragazzi, che sto riscontrando, parlando anche con dei cari amici. Ieri pomeriggio ero nel centro di Torino, ho incontrato due cari amici, entrambi sostenitori della vecchia signora, che hanno iniziato a farmi il lungo listone, allegri da cacciare. Agnelli non ci sta capendo niente, la dirigenza è debole, i calciatori sono sopravvalutati, siamo fuori dalla Champions, non lotteremo per lo scudetto. Bisogna rivoluzionare tutto e iniziare a pensare alla prossima stagione. Su alcuni punti di questo listone si può concordare o meno, sicuramente ci sono delle questioni che vanno risolte su tutte quelle dell'allenatore, perché diciamo che il tecnico livornese, allegri, ha incassato la fiducia della Juve, ma non è una fiducia incondizionata, ha una fiducia secondo me a tempo, ovvero si valuterà poi il percorso di Allegri da qui alla sossa dei mondiali, dopodiché si prenderà la decisione netta. Non credo che sia cambiata la strategia della Juve, io vi dicevo post sconfitta contro il Benfica, che Allegri non sarebbe stato esonerato e vi avevo anticipato anche che se la Juventus avesse perso contro il Monza, alla continassa non avrebbero cambiato l'allenatore, quindi mi sembra che quanto vi abbia detto poi corrisponda alla realtà dei fatti. Ma ciò non significa che Allegri goda di credito incondizionato, nella maniera più assoluta, perché Allegri in questo momento è il primo responsabile di questo avvio horror, perché è l'allenatore di questa squadra, perché al momento non è riuscito minimamente a venire da capo a punto di vista tecnico-tattico, ma aggiungerei comportamentale, attitudinale, perché è sconcertante che non ci sia il ben che minimo senso di appartenenza, e l'allenatore deve fare la differenza anche in quello. Io posso accettare alle volte, dipende anche dalle annate, dagli organici, che una squadra possa giocare tanto male, tanto male male, che magari anche i risultati siano altalenanti e che si possa far fatica persino ad arrivare terzi o quarti. Posso anche accettare che il calcio è ciclico, soprattutto quando vinci nove scoletti di fila, esistono i periodi di magra, non vinci sempre tu nel calcio, e io sono d'accordo con Allegri quando dice che vincere è una cosa speciale. E probabilmente la grandezza di questi nove scoletti di fila la stiamo comprendendo solamente ora, in tempi di vacche magre. Quelle erano vacche obese, queste sono vacche magre, c'è una via di mezzo, e la Juventus in questo momento non è neanche lontanamente vicino a questa via di mezzo, la Juve sta sprofondando, e invece tra perdere e perdere la dignità c'è un confine molto sottile, e la Juve in questo video di stagione ha perso la dignità. E qua Allegri ha grandissime colpe. Poi pensare che togliendo Allegri la Juventus torni ad essere performante dentro e fuori dal campo, ribadisco, dentro e fuori dal campo, come nei recentissimi tempi d'oro, per me quello è un errore, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Ribadisco, giustissimo, sacrosanto, spedire Allegri diritto sul banco degli imputati, ma attenzione anche a guardare il resto, perché mi sembra che la Juventus non stia funzionando a tutto tondo, non solamente la parte riguardante l'allenatore. In tutto ciò però bisogna darsi una sveglia, bisogna cambiare ruolino di marcia, perché, ribadisco, posso accettare che questa squadra non sia da scudetto, si può accettare che questa squadra non sia da elite a livello di Champions, ed è così, perché, se guardiamo i competitor, la Juventus è tantissimi gradini sotto, ma, tra il non poter vincere la Champions e non qualificarsi alla fase di eliminazione diretta, ribadisco, c'è un confine molto sottile. Quindi, questa negatività del tifoso juventino non è comprensibile, è altamente giustificabile, perché, onestamente, ve l'ho già detto in tutte le salse dal post Monza-Juve, non intravedo neanche un benché minimo aspetto positivo che mi possa portare a pensare che già, a partire dal Bologna, la Juventus possa cambiare rendimento. Poi, ovvio, per leggere i grandi numeri, la Juve tornerà a vincerne una, ma non aspettiamoci un match facile contro gli uomini di Tego Morta, non aspettiamoci che la Juve faccia agevolmente 6 punti con il Maccabi, non parlo neanche della trasferta contro il Milan, non c'è rottato, ma pur di sempre il Milan, non vado troppo in là pensando al derby in casa del Torino contro il terribile Ivan Juric, però, anche le partite sulla carta più agevoli, la Juve è in grado assolutissimamente di perderle. Basti pensare anche alla sfida con la Sardinitana. Poi vinta nei fatti, perché c'è stata la porcheria riguardante il gol annullato a Mili, che ne abbiamo già parlato, ma quella partita al 92esimo la Juve era sotto. La Juve perde a Monza contro una squadra che era in grandissima difficoltà, aveva fatto, fino all'incontro con la Juve, un solo punto in quel di Lecce, tra l'altro con un arbitraggio piuttosto discutibile. Quindi l'avversario della Juventus è la Juventus stessa. Ma bisogna uscirne, bisogna uscirne e soprattutto non è accettabile che venga data, che si possa pensare che questa stagione sia già finita a settembre. Innanzitutto perché ufficialmente è iniziata da un mese. Abbiamo visto di tutto, il teatro dell'assurdo, l'avvio dell'ho definito horror, ma anche un po' di amor proprio, perché il passato è passato, quello che è stato fatto resta nella storia, resta nella leggenda bianconera, però questa è sempre stata la forza della Juve, centrare un obiettivo, archiviarlo e pensare ai successi venturi. Ora, è difficile immaginare che la Juventus, in termini di trofei, possa portare qualcosa in questa annata, però il concetto che a settembre si debba già dare per morta, sepolta la stagione, no. No, perché è lunga, nel senso che anche da vivere da tifosi, da cronisti, da detti ai lavori, è lunga e quando una stagione diventa lunghissima, perché ho la terribile sensazione che si stia andando verso quella direzione, beh, poi se ne esce provatissimi, se ne esce distrutti, anche di testa, soprattutto di testa, non solo fisicamente, per quanto riguarda i calciatori. E su questo, ragazzi, bisogna battere, no? Sui tavoli, nel senso che io mi aspetto una reazione, poi vedremo quale sarà il percorso di Allegri, dei calciatori, dei dirigenti, di tutte le persone che lavorano nel mondo Juventus, ma guai, e ripeto, guai, andare per questa stagione finita. Questa continua linea di pensiero, corrente di pensiero, che ha legge tra i tifosi juventini, ve l'ho detto, i miei amici, quelli più cari, pensano già che tutto si debba accantonare per pensare alla ricostruzione del futuro, no? Io da questo punto di vista non sono d'accordo, non so assolutamente come la Juventus ne possa uscire, ma questo è un altro tipo di discorso, so che la Juve ne deve uscire, e ha fior di professionisti pagati per fare in modo che ciò accada. Vedremo, vedremo cosa accadrà, non vi sto dicendo, mi raccomando, da partire col Bologna, tutti ottimisti, tutti con uno spirito rosio, perché sicuramente cambierà il cammino della Juve. No, e se vi devo fare un pronostico, vi dico che la Juve è attesa da prove ancora più difficili, perché la drammaticità di questo avvio di stagione della Juve si misura dal calendario, un calendario che ha proposto Salernitana, Spezia, Sampdoria e Monza, quante big ha affrontato finora la Juve. Una, la Roma, poi un'ottima squadra, un buonissimo squadra come la Fiorentina, alle porte c'è il Milan, poi ci saranno le sfide con, non so il calendario, ma tutte le altre bisogna affrontarle, quindi sarà molto dura, ma non si può dare per finita una stagione a settembre. Io questo non lo accetto.